scoprì tuttavia che quando scriveva qualcosa anche se era solo un appunto era felice come lo era stata leggendo ancora una volta si rese conto che leggere non le bastava più un lettore non è molto diverso da uno spettatore mentre scrivere per lei era agire e agire era il suo dovere intanto passava molto tempo in biblioteca specialmente a windsor a sfogliare le vecchie agende di album delle sue innumerevoli visite di stato il suo archivio insomma sua mestà cerca qualcosa in particolare chiese il bibliotecario dopo averle portato l'ennesima pila di materiale no disse la regina sto solo cercando di ricordare com'era anche se non saprei nemmeno dire cosa beh nel caso dovesse rammentarsene mi auguro che vorrà dirmelo mi sta o meglio ancora metterlo per il scritto sua mestà è un archivio vivente anche se la regina pensò che avrebbe potuto dirlo in modo più elegante aveva capito cosa intendeva e riflettè che il bibliotecario era un altro che la spingeva a scrivere lo sentiva quasi come un dovere e lei in questo senso non aveva quasi mai sgarrato almeno finché non aveva cominciato a leggere ma un conto era essere incoraggiata a scrivere un altro a pubblicare e fino a quel momento nessuno l'aveva incoraggiata nella seconda direzione la notizia che i libri fossero spariti dallo scrittoio della regina e che un nuovo interesse catturasse la sua attenzione giunse assai gradita a Sir Kevin e al palazzo in generale è vero che la puntualità della regina non migliorò e che il suo guardaroba restava imprevedibile quel calligan lo proibirei per legge disse la cameriera ma Sir Kevin condivideva l'impressione comune che nonostante il perdurare di tutte quelle manchevolezze sua maestà avesse superato l'infatuazione per i libri e fosse tornata a grosso modo se stessa quell'autunno la regina rimase a Sandingham per qualche giorno essendo prevista una visita reale nella città di Norwich ci fu una funzione alla cattedrale una passeggiata nell'isola pedonale e prima del pranzo all'università la regina inaugurò una nuova caserma dei vigili del fuoco seduta fra il prolettore e professore di scrittura creativa la regina rimase leggermente sorpresa vedendo comparire accanto a sé un polso scarno e una mano arrossata a lei ben noti che porgevano un cocktail di scampi ciao Norman maestà disse lui educatamente e senza interrompersi il cocktail di scampi anche al prolettore prima di procedere con il resto della tavolata dunque conoscessi Kings maestà le chiese professore di scrittura creativa lo conoscevo rispose lei un po' fatto strada evidentemente era tornato in una cucina anche se non la sua abbiamo ritenuto disse il prolettore che servire a tavola oggi sarebbe stata una bella occasione per gli studenti verranno pagati naturalmente e per loro è tutta esperienza si Kings disse il professore è molto promettente si è appena laureato ed è uno dei nostri fiori all'occhiello la regina era un po' contrariata dal fatto che nonostante il suo sorriso smagliante Norman nel servirle il verfo crut sembrasse deciso a non guardarla negli occhi e lo stesso accadde con le puoi belle lenne e la sfiora pensiero che per qualche ragione le tenesse il muso un comportamento che le era stato riservato raramente tranne che da parte di qualche bambino o a volte di un ministro i sudditi in genere non tenevano il muso alla regina non rientrava nei loro diritti un tempo sarebbe stati sarebbero stati rinchiusi nella torre ma le venne anche in mente che qualche anno prima non avrebbe notato affatto cosa faceva Norman o chiunque altro e che se adesso ci badava era perché ne sapeva di più dei sentimenti delle persone e riusciva a mettersi nei panni degli altri detto questo non si spiegava comunque perché Norman fosse così arrabbiato i libri sono una cosa fantastica vero disse sommestà al prolettore che ne convenne alla lunga rendono più tenere aggiunse anche se non vorrei parlare come una bistecca il prolettore concordò di nuovo pur non avendo capito la battuta dopodiché mandò a chiamare Norman e la regina il cui proverbiale ritardo era ormai inglobato nel programma spese una buona mezz'ora a passare il giornale sulla sua carriera universitaria comprese le circostanze che l'avevano portato all'università dell'Itto Anglia la regina richiese la sua presenza a Sandringham il giorno successivo perché ora che Norman aveva cominciato a scrivere poteva essere nuovamente d'aiuto in compenso così su due piedi la regina licenzò qualcun altro entrando in ufficio Sir Kevin scoprì che la sua scrivania era stata sgombrata anche se far studiare Norman era tornato utile a sua ammestà non piaceva essere ingannata e per quanto il vero responsabile fosse il consigliere speciale del primo ministro fu Sir Kevin a pagare il fio un tempo sarebbe finito sul patibolo oggi si vide consegnare un biglietto per la nuova Zalanda con una nomina di presidente onorario dell'università dell'Otago sempre il patibolo era solo più lento la notizia si diffuse a palazzo e tutti pensavano bene di darsi una regolata e il richiamo all'ordine aveva funzionato con sua regina sorpresa quell'anno la regina compiò 80 anni il compleanno non passò per decisamente inosservato venne celebrato con varie iniziative alcune a lei più gradite di altre dato che i suoi consiglieri vedevano quella ricorrenza come l'ennesima opportunità per mettere in buona luce la monarchia davanti al volubile popolo non stupì quindi che la regina decidesse di dare un ricevimento suo per adunare tutti coloro che avevano avuto il privilegio di consigliarla nel corso degli anni di fatto si trattò di una festa per il consiglio della corona i suoi membri nominati a vita lo rendono un colpaccione incombrante che di rado si riunisce al completo e comunque solo in occasioni di una certa gravità ma nulla evitava pensò la regina di invitarli tutti per il tè e che tè prosciutto lingua sena per crescione focaccine torte e perfino zuppa inglese molto meglio di una cena pensò e anche più intimo l'abito elegante non era stato espressamente richiesto però sua mestà era linda e impeccabile come ai vecchi tempi quanti consigli aveva ricevuto negli anni pensò contemplando la stanza aggrimita gli invitati erano corsi così numerosi che avevano dovuto farli accomodare in una delle stanze più maestose del palazzo con il lauto tè allestito in due saloni adiacenti la regina si aggirava felice dai suoi ospiti e senza familiare al seguito perché loro pur facendo parte del consiglio della corona non erano stati invitati di vero già abbastanza disse la regina mentre è difficile che veda tutti voi insieme e non vorrei che la prima occasione fosse il mio funerale provate la zuppa inglese è una cannonata era raro che la regina fosse così di buon umore la prospettiva di un tè come si deve aveva attirato molti più consiglieri del previsto la cena sarebbe stata una seccatura mentre il tè era un piacere il risultato fu però che le sedi scalseggiavano ci fu un gran viavai di camarieri per trovare un posto a tutti anche se quello contribuì al divertimento alcuni vennero fatti accomodare sulle classiche sedie dorate del cilimento altri si videro segnare un inestimabile berger 12-15 o una poltrona come monogramma presa dall'ingresso mentre un ex presidente della camera dei Lord finì appollaiato su uno scabellino con sedile di sughero portato giù da un bagno la regina osservò placi da tutto quella di rivieni non proprio da un trono ma certamente da una poltrona più grande di quella di chiunque altro si era portata dietro il tè e continua a sorseggiarlo e a chiacchierare finché non si furono seduti tutti ho sempre saputo di avere i buoni consiglieri ma non mi ero mai risa conto di quanti foste che folla forse Mastà dovremmo cantarle in collo tanti auguri disse il primo ministro naturalmente seduto in prima fila non esageriamo disse suo Mastà è vero che compio tanti anni e che questa è una specie di festa di compleanno ma non so bene cosa ci sia da festeggiare mi sento solo di dire che è un'età a cui poter morire senza che sia una tragedia nazionale qualcuno ridacchiò educatamente e anche la regina sorrise riterrai più appropriato disse su Mastà che registe con un coro di no fu assecondata con altre risate mentre le personalità più eminenti del paese provavano il brivido di scherzare come tutti sapete sono regina da molto tempo in più di cinquant'anni ho visto passare se non trapassare risate dal pubblico nove primi ministri sei arcivescovi di Canterbury otto presidenti della Camera dei Comuni e per quanto possa sembrarvi fuori tema cinquantatré cagnolini gorgi una vita come dice Lady Becknell costellata di eventi sorrisi compiacenti sorrisi compiacenti sorrisi compiacenti dalla platea qualche disattina qua e là era un po' come essere la scuola e non più il là delle elementari e naturalmente non è finita disse la regina non passa settimana senza che succeda qualcosa di nuovo uno scandalo un insabbiamento però fino a una guerra e dato che il mio compleanno vedete di non fare l'aria seccata il primo ministro stava studiando il soffitto e il ministro dell'interno il tappeto io guardo le cose in prospettiva come del resto ho sempre fatto a 80 anni le cose non succedono si ripetono comunque come alcuni di voi sapranno ho sempre detestato gli sprechi narra la leggenda che io faccio al giro di tutto Buckingham Palace per spegnere le luci il che sarebbe sintomo di tilchieria ma oggigiorno la chiamerei preoccupazione per l'effetto serra ma proprio perché non sopporto gli sprechi penso a tutte le esperienze uniche che ho vissuto molte delle quali messe effettivamente a verbale conversazioni con capi di stato per esempio annotate e riassunte ma tante altre no una vita intensa in cui sono stata sì solo una spettatrice però molto partecipe soprattutto insomma stasi picchiettò la testa fresca di parrucchiere soprattutto qui dentro la domanda è che ne sarà di tutte queste cose il primo ministro aprì la bocca come per dire qualcosa e fece anche per alzarsi dalla sedia era una domanda retorica disse la regina il ministro ricadde a sedere di parrucchiere